Grazie a tutti. 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 . . a tutti. 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 alle due. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 1, 2, 3, 4 So we're going to finish off with cable fanflies, just 3 working sets between 10-12 reps just to work the client to do this. So, let's go. No, 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 no come on man, one piece, crazy